Meglio perdere una partita 5-0 che 5 per 1-0. Un adagio vecchio come il calcio e che la del Duca ribelle sperava potesse tornare di stretta. Attualità oggi pomeriggio, sì perché per la squadra di Mister Montanari c'era da cancellare lo smacco del 5-1, patito per mano della Reno ed è una del Duca ribelle tornata in campo agguerritissima per superare la resistenza della bis Misano. Subito al terzo minuto la conclusione di Nisi, la palla che sbatte sul palo e sotto porta c'è Dumitru a realizzare il vantaggio immediato dei padroni di casa sulla bis Misano, 1-0. Misano che reagisce al settimo con la conclusione out di Sanchez, del Duca ancora in attacco alla sedicesimo, palla allargata sulla destra, il cross al centro, la palla sostanzialmente toccata sotto misura dalla parte di Mazzarini con l'errore grave del portiere Sacchi. È il 2-0 con cui la partita si mette totalmente in discesa anche perché ci prova Nisi con questa conclusione out dalla distanza, poi sotto porta c'è alla mezz'ora la conclusione vincente di Torsani sull'assist di Savioli, torna in gioco il match, torna in gioco soprattutto la vis Misano che accorcia le distanze sul 2-1, si ricomincia a giocare con questo punteggio, si ricomincia a giocare con l'attacco del Duca ribelle, la conclusione sotto porta di Candoli, qui sfortunatissimo, spostiamoci al settimo in attacco, c'è ancora la del Duca ribelle con la possibilità sotto misura per la conclusione di Nisi ed è il secondo palo di giornata. Andiamo al sedicesimo calcio di punizione con Farabegoli, conclusione che coglie uno, due pali e poi interviene il portiere Sacchi, sfortunatissimo l'attaccante ex Bacchia, spostiamoci al ventesimo, il crossa dalla destra e c'è la traversa, davvero un'infinita serie questa di legni, questa volta è Gazzoni a trovare la risposta dei legni per evitare il gol del 3-1 e al novantesimo minuto la vis Misano ha un'occasione potenziale, la punizione battuta da Politi ai limiti dell'area di rigore è sprecata però dal numero 3 che non riesce ad inquadrare la porta e allora il del Duca ribelle ottiene il risultato che voleva la vittoria, il match che riesce ad aggiudicarsi col punteggio di 2-1.